Prunero di Montalcino, Campo del Drago, è il nostro crew. Un piccolissimo vigneto nella parte più alta del vigneto Capanna, la parcella più nobile del vigneto, visa dal resto del vigneto da un fiumiciatolo che fa una S. Queste S sembra un drago. Siamo sui 460 metri sul livello del mare, quindi grande escursione termica, grande ventilazione perché siamo esposti al sud-sud-est e prendiamo tutto il vento che arriva dal mare, il reno. Nel terreno abbiamo una forte presenza di galestro, una pietra vulcanica che dà grande mineralità ai nostri vini. Il terreno è molto povero, la superficie è arida, quindi le radici delle viti devono andare molto in profondità per trovare acqua e nutrienti per sopravvivere. Questo sforzo si traduce poi in grande complessità ed eleganza. Il ronello, Campo del Drago, è l'espressione e la traduzione del territorio. Siamo sull'ordine delle 6-7 mila bottiglie l'anno in base all'annata. Il Campo del Drago fa 24 mesi di affinamento in legno per poi uscire al quinto anno. In cantina viene fatto un utilizzo leggermente maggiore di barrique rispetto al Brunello base. Uno stile leggermente più moderno rispetto al Brunello base e sicuramente molto di più rispetto alla riserva che fa solo botte grande. Nel bicchiere si traduce con un colore già più intenso. Nel Campo del Drago sicuramente possiamo salire. Già dal primo direi di passare ad un secondo, quindi una carne rossa, una bella bistecca, sa va, sandir, chiamina. Grazie a tutti.